Forte preoccupazione rispetto a questa situazione di crisi. La giunta di Battipaglia prende posizione sulla questione Treofan e lo fa con un atto di indirizzo che dovrebbe rappresentare il punto di partenza di una battaglia finalizzata a scongiurare la chiusura del complesso industriale. Si esprime netta contrarietà nei confronti della dismissione della marginalizzazione produttiva dello stabilimento battipagliese, sottolinea l'esecutivo. Allo stesso tempo si esprime solidarietà e condivisione ai lavoratori della Treofan impegnati in una dura battaglia a tutela del proprio diritto al lavoro. Di qui il mandato alla sindaca di seguire la vicenda in stretta relazione con lavoratori e sindacati concordando con essi forme di lotta e tutela dell'occupazione. L'acquisizione della Treofan da parte di un gruppo indiano ha avuto conseguenze anche sul fronte sportivo con la mancata conferma del contratto di sponsor con la polisportiva battipagliese. Come sapete benissimo la Treofan è stata ceduta, è stato oggetto di una comprovendita da parte di un gruppo indiano. La nuova proprietà che è subentrata nel mese di ottobre praticamente ha bloccato ogni tipo di comunicazione con noi e di conseguenza noi abbiamo avuto indirettamente coscienza del fatto che non c'era la volontà da parte del gruppo di continuare gli impegni assunti contrattualmente con la nostra società sportiva e questo ovviamente ci ha messo di fronte a una ridiscussione di tutto quello che era il nostro piano economico finanziario con gli inevitabili risvolti sportivi.